Se acquisti un prodotto su Amazon e non ti viene recapitato, hai diritto ad ottenerlo o a tenere rimborso. Questo è un diritto soggettivo, cioè la possibilità di chiedere al giudice di condannare la controparte se non esegue la sua prestazione. Diverso è l'interesse legittimo. L'interesse legittimo è un interesse mediato, cioè tu se presenti un'istanza per ristrutturare il tuo appartamento non hai diritto ad ottenerla, ma hai diritto a che l'amministrazione applichi correttamente la norma. Se ci sono i presupposti dovrai ottenere il permesso, se non ci sono i presupposti non otterrai il permesso. Quindi il tuo interesse è soddisfatto solo dall'azione della pubblica amministrazione. Questo si chiama interesse legittimo pretensivo. C'è poi un interesse legittimo oppositivo. Se la pubblica amministrazione ti ordina di demolire il tuo appartamento, tu potresti doverlo demolire se non rispetta la normativa. Tuttavia se rispetta la normativa hai il diritto di pretendere che sia esercitato bene il potere. Interesse legittimo oppositivo. Ecco la differenza fra le due situazioni giuridiche.